Dallo spazio al mare Il mare è un progetto fatto dall'Ufficio delle Politiche Giovanili di La Spezia in unione con i comuni di Lerici, Porto Venere e La Spezia e parzialmente finanziato dalla Regione Liguria. È stata una prima esperienza per poter unire in attività e interventi i ragazzi del Golfo e i comuni e ci si augura che il futuro possa da questo scaturire altre esperienze per poter rendere i giovani del Golfo protagonisti di queste attività. Ciao, sono Maria, 25 anni, delle grazie. Oggi abbiamo fatto una mostra innanzitutto perché tutto in realtà è basato sulla mostra e i mostri cioè vale a dire che abbiamo allestito un pezzo di giardini pubblici per poter mostrare sia le cose belle che le cose brutte che abbiamo nel nostro territorio. Ciao, io sono Silvia, ho 25 anni, studio e lavoro e abito a Lerici. Ho conosciuto questo progetto tramite l'informa Giovani di Lerici. È stato interessante perché è difficile riuscire a fare qualcosa insieme e i giovani ormai se ne stanno tutti andando quindi mi è sembrata una buona occasione per cercare di costruire qualcosa insieme. è venuta fuori l'idea della mostra perché appunto le ragazze delle grazie l'hanno proposta e mi è sembrata un'attività interessante e stimolante e speriamo che anche a Lerici verrà una bella giornata come sta avvenendo qui. e il sangue che sulla camicia iniziava bruciare Abbiamo organizzato anche per coinvolgere un po' il paese per far vedere comunque che vogliamo coinvolgere sia le persone anziane che i più giovani. Abbiamo organizzato diciamo uno spazio per far disegnare i bambini abbiamo fatto una merenda per i bimbi. Ciao, sono Maria, ho 24 anni e vengo da Lerici. La cosa che mi ha stupito è che ho effettivamente visto che si parla tanto di disagi, di mancanze di possibilità tutto un po' e che nonostante questo sia difficile aggregare i ragazzi e creare effettivamente qualcosa insieme. Ho apprezzato del progetto il fatto che si riesca a fare qualcosa insieme proprio perché è molto difficile riuscire a coinvolgere i giovani della mia età in qualcosa che riguarda il nostro territorio e ho apprezzato molto il fatto che anche se siamo veramente in pochi siamo riusciti a, o comunque stiamo riuscendo a organizzare qualcosa quindi stiamo un po' stringendo relazioni, rapporti e speriamo che durino. Ho imparato sicuramente che siamo in pochi veramente che vogliono veramente cambiare qualcosa però comunque anche che lavorare insieme veramente, cioè, fa, qualcosa produce, via. Quanto pare qualcosa ha funzionato. Grazie.